Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Batman il videogioco per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo completato la terza parte del capitolo dedicato al pinguino, abbiamo scoperto che Catwoman è finita dietro le sbarre e adesso mi sa che dovremo andarla a salvare. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili, se volete acquistare Lego Batman il videogioco, Lego Batman 2, Lego Batman 3 in digitale vi consiglio di comprarli su Instant Gaming, trovate anche in questo caso i link in descrizione. Ok ragazzi, rieccoci qua, il pinguino e Killer Croc sono riusciti a fuggire, però qualcuno li sta chiamando, vediamo di chi si tratta. Pronto? Uh, ma guarda un po', è Catwoman e guarda come se la ridono! ho qualcosa però che vi potrebbe tornare molto utile, ah, il pinguino ha cambiato subito idea, chissà come mai eh, sì secondo me non vuole salvare Catwoman, vuole semplicemente recuperare il gioiello che quest'ultima è riuscita a recuperare grazie al suo fedele gatto. allora, facciamo che spaccare tutto quanto, qui Killer Croc non ha problemi perché può camminare tranquillamente sui rifiuti tossici, allora dobbiamo completare questa macchina, naturalmente nel mentre facciamo che recuperare anche le monetine per riempire la barra del super villain, perfetto, tiriamo subito questa leva e vediamo cosa succede. ok, dobbiamo sbloccare quella porta mi sa, allora, poi proviamo a utilizzare un attimo il pinguino, griglia in metallo, andiamo sotto, c'è anche una scala, rifiuti tossici e... non c'era nient'altro, allora facciamo che procedere, pensavo di trovare un mini kit se devo essere sincero però non c'era, allora intanto il pinguino magari se mi fa il favore di salire da questa parte, perfetto, dobbiamo tirare anche quest'altra leva per sbloccare la porta e ce l'abbiamo fatta, perfetto, porta sbloccata, qui possiamo costruire una scala per tornare mi sa dall'altra parte, comunque qui dentro c'è della roba parecchio interessante, solo che per recuperarla mi sa che dobbiamo utilizzare il costume da sub di... ah no però aspettate, ah killer croc può camminare sul fondale, è interessante sta cosa, non la sapevo, beh praticamente è un alligatore, pinguino ce la facciamo a salire le scale, ok sì più o meno, guarda che roba, ma... oh finalmente, no perché volevo passare là sopra e recuperare quelle quattro monetine che avevo visto, ok andiamo dove c'è la porta, da questa parte senza cadere dentro al buco magari come ha fatto il pinguino, è volato dentro, qui sopra mi sa che utilizzando il costume di robin, quello magnetico, abbiamo la possibilità di... recuperare un altro mini kit, nel frattempo buttiamoci qua dentro, uh guardate un attimo, siamo praticamente saltati fuori da questa parte, perfetto, una bella corda per il nostro killer croc, andiamo qui sopra, ahah, guarda un po' cosa celava quella parete, la seconda parte del tubo rosso, poi qui c'è un'altra porta da rompere, perfetto, qui sotto c'è un po' di spazzatura, c'è un po' di spazzatura, però attenzione che questa spazzatura celà dei pezzi lego, mi sa che dobbiamo costruire qualcosa, e forse ho una mezza idea di che cosa dobbiamo costruire, ciao vediamo un attimo, tanto killer croc è anche veloce, ma sembrerebbe un veicolo se devo essere sincero, perché vedo un volante, un veicolo a forma di alligatore, un veicolo a forma di alligatore, perfetto, adesso dobbiamo mettere giù tutte e quattro le zampe, e non ci resta altro da fare che piazzare anche la coda, bravissimo killer croc, adesso ci divertiamo un po', guarda lì, attacchiamo gli operai, e mi sa che nel mentre dobbiamo anche distruggere dei televisori, mi hanno attaccato in gruppo e guardate che fine che stanno facendo, me li sto mangiando tutti, allora siamo a tre, sì per rompere questi oggetti vi basta praticamente passarci sopra, quattro, è bello che mi attaccano e poi fa in finta di niente, no? Voilà! Ok, mini kit recuperato, possiamo anche scendere, però prima vorrei eliminare tutti quanti, perché non voglio che poi all'ultimo decidano di attaccarmi, ok, ucciso, lì sopra c'è una leva da tirare, però non possiamo tirarla perché c'è una porta in vetro, comunque con quella leva mi sa che sblocchiamo le scale, per andare a recuperare quell'altro mini kit, ok, nuova zona, passaggio per i pinguini del pinguino, direi di sì, qui c'è da spaccare un po' di roba, sto cercando di recuperare tutte le monetine che posso, siamo tornati su, vai killer croc, se c'era un passaggio, è perché c'è un motivo, infatti, dobbiamo liberare il passaggio, dietro le sbarre ci sono delle altre monetine, facciamo che depositare un pinguino, e vediamo cosa succede, eccolo, aha, pezzi per costruire una ventola, però aspettate, perché stiamo lasciando indietro un po' troppe monetine, non mi va, dove caspita siamo finiti, mi sa che abbiamo raggiunto la centrale di polizia, non so come, ma l'abbiamo raggiunta, vabbè, non so come, praticamente l'abbiamo raggiunta passando dalle fogne, allora, spacchiamo tutti questi armadietti, voilà, rompo ancora questi, poi procediamo, ok, fantastico, allora, nuova zona, non ci sono guardie, non c'è niente di niente, solo tanta roba da rompere, e qui, mi sa che c'è una porta da sbloccare, no, anzi, killer croc sta spostando una cassa, cassaforte, cosa caspita c'era all'interno, dei fogli, boh, vabbè, allora, ho raggiunto, questa nuova zona qua, sto raccattando le monetine, ah, guardate un po', ah, ho sbloccato la porta rossa, fantastico, salve, ehi, poliziotto, cosa volevi fare? Allora, intanto, apriamo le celle, qui non c'è nient'altro, anzi, no, ci sono dei pezzi per costruire una ventola, ok, con questa ventola possiamo salire sopra, anche perché non vedo delle scale, però, già che ci siamo, facciamo che rompere anche tutti gli oggetti presenti nelle altre celle, perché, ehi, il pinguino è già salito su, il pinguino è già salito su, così, guarda i poliziotti come mi corrono dietro, guarda lì, grande killer croc, gli ha fatto fare una brutta brutta fila, tira sta leva, ma, ma non ci credo, hanno anche una jacuzzi, ma dimmi te, ma dimmi te, ah, andiamo a vedere se c'è qualcosa qui dentro, solo un po' di monetine, ok, niente di particolare, pinguino, ok, ascensore sbloccato, e si scende, attenzione i poliziotti, mi sa che abbiamo trovato catwoman, oddio quanti ce n'è, oddio quanti ce n'è, perfetto, sconfitti anche abbastanza facilmente, catwoman è, da questa parte, guarda un po', qui c'è un mini kit, grande killer croc, li ha fatti volare via come niente, vabbè, sblocchiamo anche questo mini kit, preso, qui c'è un moltiplicatore di punteggio, quindi tutte le monetine valgono di più, guarda, mi attaccano in 4 o 5, ma fanno tutti una brutta fine, sto distruggendo tutto quanto, allora, mi sa che ci serve lui, dobbiamo salire, da questa parte, e poi ho visto, ho visto, ho intravisto, una cosa da questa parte, che caspita, costruiamo un attimo, ok, no, no, non il pinguino, vabbè, recuperiamo le monetine, perfetto, lanciamo questa bomba, probabilmente, ci servirà per aprire la gabbia di, catwoman, abbiamo fatto saltare tutto quanto, ed eccola qua, mi dai il gioiello, scordatelo, dacci il gioiello, va bene, eccolo qua, allora, posso finalmente, attuare il mio piano, la base segreta si trova dentro uno zoo, e mi sa che dobbiamo scappare, oh mamma, mi sa che, killer croc ha fatto una brutta fine, va bene ragazzi, abbiamo completato anche questo livello, direi come sempre di schippare tutto quanto, va bene ragazzi, rieccoci qua, siamo tornati all'Arkham Asylum, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Lego Batman il videogioco qua, gran bel episodio, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Lego Batman il videogioco, alla prossima ragazzi! in un prossimo episodio, in un prossimo episodio, Grazie.